Sono in fase di ultimazione le riprese del simpaticissimo video Happy from Agropoli, organizzato dal Forum Giovanile e patrocinato dal Comune di Agropoli. Aldo Olivieri, il presidente del Forum, Giuseppe Ruocco, Carmine Spinelli, Domenico Di Gaeta e Gianni Petrizzo hanno preso il largo nel porto di Agropoli verso le 17 e hanno indirizzato la rotta verso lo scoglio di San Francesco. Arrivati sul posto, ancorata la barca, Carmine Spinelli si è tuffato e ha raggiunto a nuoto uno dei simboli religiosi più belli di Agropoli. Sullo scoglio Carmine ha ballato sopra le note di Eppi, mentre dall'imbarcazione il regista Petrizzo con gli assistenti ha ripreso il tutto. Allora siamo appena sbarcati su Agropoli, il protagonista di questo Eppi sullo scoglio di San Francesco è qui, che ci racconta innanzitutto com'era l'acqua. Innanzitutto mi metto un po' più decendo, perché sennò le tue ragazze poi magari reclamano. E ti querela. L'acqua era non particolarmente fredda, pensavo veramente ma veramente peggio, invece è stato molto meglio di come mi aspettavo. E allora a te un primo spot per chi vedrà questo filmato, questo servizio, ai turisti che vogliono raggiungere Agropoli e fare già un bagno. Qual è il tuo messaggio? È uno spettacolo l'acqua, Agropoli a prescindere dall'acqua e dallo scoglio è bellissima, è uno spettacolo. Quindi venite a tuffarvi, a raggiungere anche voi gli scogli qualunque si siano, perché è una favola, una favola. Agropoli è una favola. Perfetto, detto ciò aspetta non è finita, la difficoltà nel ballare sullo scoglio di San Francesco e soprattutto la responsabilità, che mi dici? La responsabilità è tanta, perché comunque è un luogo famosissimo e anche sacro, quindi è una gran bella responsabilità, però è stata una bellissima esperienza. La consiglieresti a tutti? A tutti, a tutti. Bene, grazie e mi porti, mi accompagni da Aldo, il fautore di questo video, Eppi, Aldo Olivieri del forum. Vi presento Aldo Olivieri, il forum dei giovani è lui, siamo noi, siamo noi. Allora Aldo, ancora un'altra avventura, continua la realizzazione di Eppi from Agropoli. Sono contentissimo di come stanno andando le cose di questo video, mi sto divertendo nel fare le scene. Tra le altre cose è anche un modo per rivedere le bellezze della nostra città, per questo ringrazio Giuseppe Rucco, il proprietario della barca, se puoi riprenderlo anche. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao a tutti. Sulla disponibilità e sono convinto di una cosa, che vinceremo il concorso Eppi, con il video Eppi from Agropoli. Sì, oltre ai ragazzi che abbiamo inquadrato, ci ha accompagnato pure un tuo amico, nonché rappresentante consigliere del forum provinciale. Consigliere distrittuale, il signor Domenico Di Gaeta, ve lo presento, eccolo. Grazie Domenico, anche della tua presenza. È stato un piacere, veramente. È sempre una gioia fare queste cose, soprattutto perché, ripeto, come ha detto, giocarmi in Agropoli è meravigliosa. E soprattutto per far vedere che dietro a questi video c'è tanto sacrificio e tanti minuti di noi ragazzi che ci impegniamo quotidianamente. Ogni punto di arrivo non è mai un punto di partenza, riparte sempre da capo.